Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, ieri sono partiti in vacanza, innanzitutto. Mi scuso se ieri non ho mandato nessun video, ma c'è avuto un viaggio veramente duro. C'è più di 24 ore di viaggio tra nave, tra nave carità dato e tutto quanto. Non sono riuscito a fare un video, mi dispiace. Me l'ho dimenticato di avere oggi e di provare le mie scuse. Oggi me l'ho profondamente dimenticato. Allora, dopo tutto questo, possiamo parlare di due partite che si sono concluse. Due partite che si sono concluse sono Milan-Manchester United 6-7 dopo i cacci di rigore. Partita che è il novantesimo era finita 2-2, un pareggio emozionante. Si è visto in campo un grande Milan che oggi meritava di vincere nei 90 minuti. Allora, il Milan che era sotto di 1-0, gol di Rashford. Poi c'è stato un pareggio disuso per 1-1 e l'autogol di Rinderhoff per il 2-1 per il Milan. Nel finale aveva stato un pareggio di Ringard a novantesimo che ha permesso a Manchester United di giocarsi a rigori. E il rigore è finita 7-6 per United con l'errore decisivo del giovane Mardini del Milan. La seconda partita di cui vi vorrei parlare è l'Ir Roma 2-3. Allora, questa partita è stata una partita, una grande partita, emozionante, amichevole, un amichevole emozionante. C'è stata una partita combattuta per la Roma perché perdeva 1-0 nel primo tempo. Poi ha saputo fare 2-1, ha saputo fare 1-2 rapido, due gol veloci nel giro di un quarto d'ora. Dopodiché aveva stati pareggi del Ring. E poi il gol finale della Roma vincente col gol di Cristante nel finale, praticamente nei minuti finali. Diciamo nel recupero. Comunque bene, Milan e Roma hanno giocato bene. Si vede un bel calcio da parte dei 2-2. Prepariamoci a una grande sera a partire dal 24 agosto. Ciao ragazzi, buona serata a tutti. Ci vediamo domani. E fino alla fine, forza Juventus. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Grazie.